L'avvento delle tecnologie digitali ha un impatto pervasivo sulle organizzazioni e su l'intero sistema economico. Il cambiamento che ci attende è un cambiamento che non riguarda solo l'utilizzo di software, di hardware e di tecnologie, ma che riguarda il capitale umano, le competenze e i talenti che saranno necessari in questa nuova economia e anche in questa nuova società. Le organizzazioni possono costruire al loro interno, ma è chiaro che questa è una sfida che riguarda l'insieme del sistema educativo e dell'insieme di costruzione del talento e delle competenze individuali. Ed è proprio per questo che attorno al tavolo di Capri racchiuderemo competenze che nascono da diversi settori del sistema sociale, educativo ed economico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.